Tra 6 e 5 news Se ai prossimi mondiali di Leger, cross country, mountain bike, mi dici Punta su un atleta, io andrei secco su Andrei Cinque, secco Slovacchia Perché questo nome è un po' fuori dagli schemi? Vabbè, non proprio fuori dagli schemi, visto che nella stagione scorsa Non è riuscito a vincere una prova di Coppa del Mondo, ma era sempre a battagliare Quasi sempre a podio, insieme all'altro dominatore del 2021, Mattias Flukinger Ho detto Andrei Cinque perché si sta allenando veramente bene È da parecchie settimane Kelly Vigno, solo nel mese di giugno ha totalizzato 35.000 metri di dislivello Ha fatto in tempo a girare con vari atleti, con Zane Stibar, con Cooper, con Mathieu Van der Poel E nei suoi occhi ho visto l'occhio della tire, non della Cernia Cernia! 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 Andiamola! Se vuoi vedere un po' il suo periodo in altura e come si allena un pro per un mondiale di mountain bike Quindi tutti anche i sacrifici connessi Appuntamento sempre sul nostro sito 35mountainbike.it Altra notizia interessante, Fabio Arun e Vincenzo Nibali Sembra che tornino ai loro vecchi amori, vale a dire la mountain bike Ricordiamo che Fabio Arun nel 2008 è stato riserva ai mondiali MTB in Val di Sole Mondiali vinti da Peter Sagan nella categoria Juniors E nella stessa annata è stato convocato in maglia azzurra agli europei MTB e ai mondiali di Treviso di ciclocross Dopo questa bella annata il passaggio poi tra gli under 23 l'ha compiuto su strada E poi da lì è stata una bellissima carriera a fine primi anni del professionismo Dove si è tolto anche la soddisfazione di vincere tappe alla vuelta e fare un secondo al Giro d'Italia Ora Fabio Arun dopo dei periodi un po' no dove non è riuscito a concretizzare tutto quello che di buono Aveva fatto i primi anni da professionista Si ritrova in MTB, ambassa dallo Specialized E insieme a Nibali sembra che voglia partecipare il prossimo anno alla Cape Epic Anche Vincenzo Nibali ricordiamo ha smesso quest'anno col Giro d'Italia Dove ha conquistato un quarto posto Ha chiuso così la sua carriera su strada Per chi non sapesse cos'è la Cape Epic è una delle più famose gare di MTB a livello di corse a tappe Piccolo gossip 272 km orari Il nuovo Guinness World Record di un biker su una bicicletta Trainata in questo caso Naturalmente 272 km orari L'austriaco Elias Wastler non li ha fatti con le sue gambe Era in sella una Scott Gumbler ADH Opportunamente modificata cambiando le coperture in coperture più da cross country E si è fatto trainare da un Honda Fireblade CBR 1000 Ok come si sa spesso i Guinness World Record Contano quel che contano Comunque si tratta sempre di un'impresa che fa capire Dove si può arrivare, dove possono arrivare certi limiti Però tengo a precisare che il record di velocità non trainato È stato conquistato nel 2017 da Max Stuckel Austriaco manager del team di Coppa del Mondo MS Mondraker Che su una montagna al deserto Cilino di Atacama ha raggiunto i 167 km orari Ultimissima chicca Made in Italy Giovanna Bonazzi Campionessa del mondo del 91-93 DTN ancora al record di velocità sulla neve Alla velocità di 158 km orari Conquistato a Mammon Mountain in America nel 1996 Grande Joe E per finire Canazzei si sono svolte l'Enduro World Series Italiani non molto in spolvero Ha tenuto alto la bandiera Martino Frué Tra i Master che ha conquistato una bellissima vittoria Martino che dovrebbe essere uno specialista del cross country Si diretta anche nell'Enduro e direi ha buonissimi risultati Migliore degli italiani maschile Tommaso Francardo che comunque ha portato a casa un 37esimo posto dignitoso Peccato per Gloria Scarsi Solo 18esima vittima anche di una caduta Che l'ha resa un po' dolorante per tutto il resto della gara Giusto per segnare i vincitori della gara assoluta maschile e femminile Si tratta dei boss Mi piace nominarli così perché sono dei senatori dell'Enduro Richie Rude e Isabelle Cordier Richie Rude non ha avuto vita facile perché Fino all'ultima PS Jasmine Ahmed era davanti all'americano di pochi secondi Ma poi la classe di Richie Rude è saltata fuori in ultima PS E ha sopravanzato il canadese Quest'anno sembra proprio una sfida tra Jasmine Ahmed e Richie Rude Quando l'anno scorso la sfida era Richie Rude e Jack Moore E continuiamo con la puntata Grazie a tutti